Ha ricordato l'importanza del teatro come quella di mettere in relazione le persone ma anche di portare le emozioni e la conoscenza ai massimi livelli ed ha deciso di farlo proprio oggi in occasione della giornata mondiale del teatro. È il messaggio che arriva dal direttore del teatro di Cagli, Sandro Pascucci. Oggi 27 marzo è la giornata internazionale del teatro e allora con un grande senso di mancanza, di assenza ho deciso comunque di registrare questo piccolo messaggio di buon auspicio, confido per me e per voi. Io sono Sandro Pascucci, il direttore del teatro comunale di Cagli, dell'istituzione Teatro Comunale di Cagli e come voi in questo momento sono in casa mia, ascolto l'ouverture di Gioacchino Rossini della Gazzalanda che fu proprio registrato nel teatro di Cagli poco più di un anno fa. Che dire, l'ascolto sicuramente arricchise il senso di mancanza e di assenza ma non lo completa perché il teatro ha una formidabile potenza per noi uomini che è quella di trovarsi insieme, di mettere la relazione, l'emozione, la conoscenza ai massimi livelli in un contesto architettonico ambientale che sospende il tempo che ci mangia con la sua fretta e ci sospende in una situazione di grande bellezza e di grande capacità emotiva. Cerchiamo di preservare in questo senso di mancanza l'aspettativa per un ritrovarsi insieme nel teatro comunale di Cagli e nel teatro della vita.